Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi non vi porto nessuna guida, bensì un semplice video spiegazione. Scommetto che almeno una volta tutti voi abbiate sentito la frase se sei forte sali, ma ovviamente quando giocate trovate solo troll e afk, quindi non riuscite ad arrivare in gold, vero? Premetto subito, questo non è un video per criticare nessuno né per prendere per il culo qualcuno. Voglio semplicemente farvi capire cosa c'è di vero dietro questa frase e come funziona il sistema di rank di League of Legends, in modo da rendere conscio, chi ancora non lo è, dei motivi per cui non sale di rank, senza sbattergli in faccia il solito se sei forte sali. Per i bronzi che stanno guardando questo video. In fondo ci sarà una parte dedicata tutta a voi, vi dico solo che non avete completamente torto a lamentarvi che non salite, ma lo vedremo dopo. Partiamo subito dicendo che sì, se sei forte sali è vero, non è una cazzata. I challenger non sono tutti dei super sculati che sono arrivati lì per pura fortuna, ma è anche vero che c'è una componente di fortuna che determina il vostro rank finale. Come ognuno di voi sa, ogni giocatore di LoL che gioca a Ranked ha un numero variabile chiamato MMR. L'MMR è un valore che indica in pratica la vostra bravura. È variabile perché ogni volta che vincete aumenterà e ogni volta che perderete si abbasserà. Se volete calcolare questo valore potete usare il sito op.gg che vi darà una stima del vostro MMR. Dico stima perché solo la Riot sa qual è il vostro vero MMR, ma di solito op.gg non si sbaglia di molto diciamo. Quando cercate una partita il sistema cerca avversari che abbiano più o meno il vostro stesso MMR con una percentuale di differenza abbastanza bassa. Questo vuol dire che voi, ogni game, avete in squadra e contro persone che hanno il vostro stesso livello di bravura. O quasi. Infatti, fra queste 10 persone, parlo anche di te, ci possono essere giocatori che hanno quell'MMR perché è il loro vero livello di bravura e altri che invece lo hanno temporaneamente, sia dal lato negativo che positivo. Infatti potreste trovare giocatori col vostro stesso MMR, ma molto più bravi di voi, che hanno quell'MMR solo perché hanno appena iniziato a rancare e stanno ancora scalando. O magari perché stanno smurfando. Ma allo stesso modo potreste trovare bustati o superbrocchi che hanno quell'MMR perché perdono tutti i game, anche se sono qualche divisione sopra. Sento già i cori Io mi trovo sempre i troll e loro sempre gli smurf. Ni. Diciamo ni. Le possibilità che tu abbia un troll in squadra sono meno che averlo contro. Tu hai quattro possibili troll mentre contro ne hai cinque possibili. Ma allo stesso tempo le possibilità di avere uno smurf in squadra, considerando che la maggior parte delle volte chi smurfa gioca insieme ad un amico per aiutarlo, sono minori ovviamente di quelle di averlo contro. E questa amico mio è matematica. Non la storiella inventata da Gianni il pescivendolo. Matematica. Tornando al discorso di prima quindi. Se tu sei davvero forte come pensi e meriti di stare più in alto sarai certamente più forte del nemico, a meno che non stia smurfando o che sia un tizio come te, super mega galatticamente forte e che stia ancora salendo. Giusto? Bene. Se tu sei più forte e contro non hai nessuno che smurfa barra forte come te, i due team sono composti da 9 persone di quell'elo e un super god mega faker che sei tu. Di conseguenza un team è più forte dell'altro. E quel team ovviamente è il tuo, visto che sei tu il super mega god. Nel caso invece avessi dei troll in squadra, o sei abbastanza forte da carriarli, oppure quella partita è persa. Basta che te ne fai una ragione, i troll ogni tanto capitano, e come capitano a te, capitano a tutti. Non ti preoccupare. Abbiamo quindi detto che c'è un fattore fortuna nel vostro rank finale. Quello di cui parliamo sono appunto le possibilità di incontrare troll o smurf. Infatti, se voi meritate uno specifico rank, ad esempio il gold 3, e incontrate più troll che smurf, finirete la season magari gol 5 o 4. Se invece incontrate più smurf, magari finite la season anche gol d'uno oppure due. Questa casualità è data dalla probabilità, ma come vedete il range d'errore è abbastanza basso, in più potete fare una cosetta per abbassarlo ulteriormente. Esiste una cosa chiamata legge dei grandi numeri, che dice che se un evento si ripete tantissime volte usciranno sicuramente almeno una volta tutte le sue possibilità di svolgimento, e che con la continua ripetizione, queste possibilità si equivalgano in numero di volte che si presentano. In pratica, più giocate, più il range si restringe perché meno saranno, in percentuale ovviamente, i game dove avrete trovato smurf o troll. Detto questo, prima di concludere con i famosi consigli per salire, voglio fare una parentesi per i bronzi. Sentiti libero di saltarla se non lo sei. Qui sotto ti metto a che minuto iniziano i consigli. Ah, in bronzo trovo solo troll, è impossibile uscire, scommetto che gioco meglio di un gold. No, mi dispiace rovinarti la vita, piccolo Jimmy, ma non giochi come un gold. Per nulla. Il bronzo ha una caratteristica, però. Il range tra l'elo che meritate e quello dove potrete essere è molto più largo, ma solo verso il basso, ovviamente. Questo è perché le basi del gioco sono sconosciute la maggior parte dei giocatori bronzi e silver. Anche gold, eh? Ma comunque essi hanno già dei risultati, diciamo. E questo comporta una differenza minimale tra la bravura di un bronzo 5 e quella di un bronzo 1. Soprattutto perché in bronzo una cosa che conta tantissimo non è la bravura col mouse, ma la capacità mentale di capire il game e comportarsi di conseguenza e di non tiltare. Vi consiglio quindi altamente di giocare in duo queue se siete bronzi. È il modo più divertente, nonché il migliore per farlo. Tutto qui, non c'è nessuna formula magica che vi possa salvare. Solo imparare a giocare un minimo e farlo in compagnia. Ma almeno vi ho confermato che se siete bronzi non è del tutto colpa vostra, diciamo. Eccovi quindi i pochi veri consigli che vi posso dare per salire in ranked a qualunque elo. La bravura in questo gioco non è determinata solo dalla capacità di cliccare col mouse. Anzi, questa non è neanche richiesta per dover arrivare in gold. Ogni giocatore è composto da abilità col mouse, capacità mentali e conoscenze. L'abilità col mouse aiuta molto, ma se non sapete cosa fare, non serve a nulla. Capacità mentali e conseguenze sono strettamente collegate e non necessitano per forza di abilità col mouse. Ad esempio giocare campioni come Tryndamere non richiede una gran bravura col mouse, ma semplicemente una base di conoscenze. Concentratevi quindi su queste. Non tiltate, giocate per imparare e non per vincere in modo da incazzarvi di meno con i compagni e guardare i vostri errori. State calmi in modo da massimizzare le vostre abilità e non scoraggiatevi. Ho detto scoraggiatevi, non scoraggiatevi, eh? Ahahahah. No. Non faceva ridere. Ragazzi, spero che questo lungo video sia servito a qualcosa e ricordatevi di condividerlo quando vedete qualcuno che si lamenta che non sale. So di non avervi dato nessun tipo di mega insegnamento, ma ho cercato di mettervi davanti quello che è il sistema di rank in modo da convincervi che non è sempre colpa degli altri. Da Okami questo è tutto. Ciao ragazzi.